Musica Buona mattina, buon paniggio, buona sera, buonanotte, dipende quando vedrete questo video che sarà velocissimo perché mi sento veramente un criminale Questi sono i tipi di video che un admin di un server di 7day2die non vorrebbe mai vedere online su youtube Infatti oggi parleremo di un cheat, diciamo un possibile cheat che attualmente, proprio adesso, c'è sull'alpha 13 visto che è appena uscita E che sfrutta il lag dovuto alla versione del server che non è proprio delle migliori E vi mostrerò come fare a moltiplicare Io sono in un server pubblico, in un server pubblico che non vedo adesso il nome, comunque è un server Vediamo, vi mostro i player online C'è un altro player online, comunque il server vi assicuro che è pubblico Allora, come funziona il discorso? Apriamo una chest Allora, come vedete, abbiamo la possibilità, se sapete Tenendo schiacciato shift e cliccando col tasto sinistro Posso muovere velocemente gli oggetti Da un lato o dall'altro Se invece schiaccio col sinistro Tengo schiacciato col sinistro Predeva la cosa e la porto qui Schiaccio sinistro lo deposita Ok? Quindi qual è la differenza? Che se noi facciamo questo movimento velocemente nel prelievo Ci preleverà il doppio degli oggetti Vi faccio vedere ad esempio con il lamp of call Lo prendo Tengo il dito pronto sullo shift L'operazione sarà un clic sinistro Shift clic di nuovo e clic di nuovo Sarà 1, 2, 3 E no 3, 20 Quindi sarebbe 1 Con lo shift lo riprendo E con il sinistro schiaccio ancora su quel pulsante Su quella casella lì Perché il lag che c'è Avrà lasciato l'oggetto per il momento Oltre a avercelo dato Lo lascerà per un minimo secondo Per un mezzo secondo lì E ci darà la possibilità di prelevarlo due volte Quindi 320 Io 1, 2, 3 500 e 140 Stessa cosa posso fare con Scusate Con Un attimo Questo E lo posso fare anche qui Ok Non è proprio semplicissimo all'inizio Però Deve essere un'operazione veloce Quindi 1, 2, 3 Un attimo 1, 2, 3 Ok Tutto giù Prendevo e tiro su Sì Ci si deve prendere un po' la mano E questo può essere fatto con Eeeh Eeeh Qualsiasi oggetto Vedete Con l'acqua Dobbiamo essere veloci Un attimo Eeeh Ok Non sempre riesce Cioè Bisogna prenderci la mano Una volta che si è presa la mano Si riesce a moltiplicare Pani e pesci Neanche se fosse Gisucristo Allora Eeeh Vi ho mostrato questo Eeeh Questa possibilità Non vi devo dire Che se vi beccano Vi bannano Non penso Ci sia bisogno di dire questo Ok Però Eeeh Giustamente Faccio informazioni Su Seven Days to Die Su Eeeh Come craftare Su come Smeltare Su come fare Tutto Su Seven Days to Die Quindi anche questo Fa parte di Seven Days to Die E' un bug Creato dal gioco Non è la colpa Non è mia Di sicuro Quindi Eeeh Usatelo con Eeeh Con parsimone Anche perché Se lo utilizzate In modo selvaggio Vi beccano Immediatamente E vi bannano Dal server Quindi Non sarà Una cosa piacevole Allora Qui stiamo Prelevando Del Eeeh Potassio Quindi Preleviamo Del potassio Apriamo Allora Una cosa importante Dovete avere Una cassa Ok Se poi avete Un server Che non lagga Proprio per niente E' là Allora Siete fregati E non potete Utilizzare questo Eeeh Questo cheat Questo trucco Ma in realtà Eeeh Non ci sono Ah un maiale Ma in realtà Non preoccupatevi Non Non esistono Al momento Server Che non laggino Io ho fatto Una cassa in più La posiziono La apro Voglio moltiplicare Il potassio 1 2 3 1 2 3 Eccolo qua Vedete Sto moltiplicando Il potassio Ok Poi dal potassio Eeeh Poi vogliamo Moltiplicare Eeeh I Anche perché Non dipende Solo Dal Dipende anche Dal lag Un po' Da tutto Però vedete Camiseria Ok vedete Quindi si possono Moltiplicare Allora Il video termina Qui Chiedo Scusa Subito Eeeh Agli admin E ai gestori Del Dei server Dei server Anche italiani Ma anche stranieri Per questo video Ma io faccio Informazione Su 7 days to die Quindi Eeeh Faccio informazioni Su tutto Logicamente Se trovo Un glitch Un bug Non essendo all'interno Di un server Non gestendo Io un server O comunque Non essendo player Di un server Vi do questa informazione La do Ai player E agli admin Quindi Gli admin Se vedono Che cominciano Ad essersi Multiplicazioni Gente che va in giro Con un fucile Con 500.000 munizioni Se ne rendono conto Dicono Piano Fammi vedere L'inventario O comunque Sia Fanno dei controlli Ma Se avete la fortuna Magari Di Poter utilizzare In modo Furbo Questo cheat Potete utilizzarlo E Diciamo Citare Io Non sono Per i cheat Nel senso E' stato scoperto Per sbaglio Mentre giocavo Su un server E Non l'ho Non l'ho mai Utilizzato Quindi Perché anche noi Giochiamo In 5 6 7 In un server Non ci serve Andare a moltiplicare La roba In questa maniera Però Se uno parte da solo Magari Questo trucco Può essere utile Io vi ringrazio Per aver visto questo video Mi scuso ancora Con coloro Che ne pagheranno Le conseguenze Per questa Informazione Globale Vi invito A iscrivervi al canale A commentare A mettere mi piace A mettere Non mi piace Perché Per la prima volta Che nei video Che ho fatto In fine adesso Non ho visto Non mi piace E lo apprezzo Ringrazio tutti Questa volta Mi sa che Non mi piace Ne prenderò molti Però E' sempre informazione Ed è quello Che faccio Su 7 days to die Io vi ringrazio E vi invito Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti